gentili telespettatori buona giornata c'è un'anomalia gigantesca tra il lavoratore autonomo partita iva e chi lavora da dipendente bene sono felice che i lavoratori autonomi hanno una tassazione al 15 per cento oggi fino a 85 mila euro quindi va benissimo che agli autonomi che ha la partita iva vengano abbassate le tasse ma ai lavoratori dipendenti viene dato invece un contentino di qualche spicciolo perché vengono diciamo viene abbassato non vengono abbassate le tasse ma viene abbassato il cuneo fiscale che è la tassazione sul lavoro per farla arrivare alla media europea l'aveva abbassato del 2 per cento draghi gli si aggiunge un 1 per cento si va al 3 per cento per arrivare al 5 per cento fino in cinque anni ma questo 5 per cento entro cinque anni corrisponde poi a un innalzamento dello stipendio di circa 33 euro per uno dei mille euro c'è 33 euro di tassi in meno e quindi in più nella busta paga uno stipendio di mille euro avrà 33 euro in più ma il risparmio invece per gli autonomi per quanto riguarda le tasse è enormemente più alto perché questa differenza tra chi ha la partita iva e chi è dipendente perché questa differenza tra chi è imprenditore di se stesso e chi dipende da qualcun altro secondo le analisi dei centro studi della cattolica un elettricista per esempio pagherebbe oltre 6.500 euro di imposte in meno di un elettricista assunto da un'impresa quindi l'elettricista dipendente con lo stesso reddito lordo prende 6.500 euro in meno all'anno cioè oltre 500 euro al mese in meno di un elettricista che lavora per conto suo e alla fine se si arriva a una certa cifra l'elettricista autonomo porta a casa 10.000 euro in più dell'elettricista assunto da un'azienda se ci si arriva più vicini agli 85.000 euro ad esempio un consulente informatico pagherebbe 3.600 euro in meno di un consulente informatico dipendente arrivando anche a 5.500 euro in più di chi l'autonomo di chi ha un lavoro dipendente certo il lavoratore autonomo ha un rischio di impresa un rischio di impresa e non ha tutte le coperture assicurative del dipendente però non paga i contributi relativi a queste coperture assicurative ma il vantaggio sembra eccessivo tra l'autonomo e il dipendente immaginatevi un dirigente d'azienda un quadro intermedio che ha 85.000 euro di stipendio lordo e una partita iva che ha 85.000 euro di stipendio lordo la differenza tra i due è enorme in quanto a tasse che pagano quello dipendente arriva a pagare anche aliquote oltre il 40 per cento l'autonomo si ferma al 15 per cento ci sono così degli effetti distorsivi perché tutto questo vantaggio per gli autonomi che va anche bene parliamoci chiaro perché non c'è lo stesso vantaggio per i lavoratori dipendenti la risposta è non ci sono soldi e allora perché non è stato equamente distribuito in proporzione naturalmente gli autonomi sono meno dei lavoratori dipendenti però avrebbero potuto fare una sorta di maniera proporzionale a basso di qui e a basso invece il lavoratore dipendente ha qualche a qualche euro e il lavoratore autonomo a qualche migliaia di euro in più capite che c'è una distorsione tra i due trattamenti e così è una tendenza questa che c'è già da diversi già da diversi anni naturalmente questa misura a cento è il divario che c'è tra dipendenti e autonomi ad esempio con una soglia di 35 mila euro lordi chi ha un contratto dipendente oltre i 35 mila euro lordi si carica la spesa sociale quasi per intero sulle spalle scrive un rapporto presentato alla camera dei deputati il nostro paese che al primo posto nella classifica di evasione fiscale basa tutte le politiche sociali sui redditi lordi dichiarati e per quanto riguarda gli indici di povertà assoluta e relativa sulle dichiarazioni relative alla spesa settimanale mensile dunque in base all'ISEE definisce bonus sussidi sgravi eccetera eccetera e poi c'è il risultato che su 16 milioni di pensionati quasi il 46% sono totalmente o parzialmente a carico della collettività non essendo in 67 anni di vita riusciti a versare per almeno 15 anni contributi e quindi neppure le imposte insomma la fotografia del paese è questa il 13 per cento della popolazione paga il 60 per cento dei contributi mentre il restante 87 per cento paga il 40 per cento insomma ci sono delle differenze ci sono delle differenze che sono assolutamente incredibili tra i due tipi di lavoro questo ne abbiamo parlato già anche in passato speriamo che nel futuro prossimo si cerchi di riequilibrare questo questo perché si immagina che il lavoratore dipendente deve essere il sindacato a fargli alzare lo stipendio mentre il lavoratore autonomo è lo Stato che gli alza lo stipendio diminuendogli le tasse quindi al lavoratore autonomo ci pensa lo Stato e al lavoratore dipendente ci pensa i sindacati siamo a posto grazie a tutti e arrivederci a presto